Cibo e vino orgoglio di comunità è il tema scelto per la terza giornata nazionale dei borghi autentici d'italia in programma domenica 30 settembre una festa diffusa su tutto il territorio nazionale cui partecipano circa 60 piccoli e medi comuni aderenti all'associazione borghi autentici d'italia la manifestazione giunta quest'anno alla sua terza edizione è promossa dall'associazione borghi autentici dalla liguria alla sicilia i comuni che partecipano all'evento raccontano la storia dei loro sapori quelli più autentici prodotti con le materie prime locali da sempre coltivate e seguite con esperienza divenuti parte integrante di una tradizione legata alla propria terra l'evento rappresenta un appuntamento importante in questo 2018 anno nazionale del cibo italiano e si propone di dare un forte impulso alla valorizzazione del patrimonio enogastronomico e agricolo dei piccoli e medi comuni che esprimono nel loro insieme un sistema di comunità e di culture che rappresentano la vera autenticità e identità del nostro paese molte le iniziative proposte tra street food show cooking mercatini autentici a chilometro zero convegni e mostre fotografiche tutto pensato per la valorizzazione di tradizioni enogastronomiche e vinicole del nostro paese